d'anco dai capirai diamo cicciotti vieni gigi su metterò sul video c'è ma io sarebbe che li metto lì perché è gratis ed è uno spazio di memoria infinito così non devo ammettere su pc su schede di memoria poi me le perdo mi dimentico no no io ne metto pubblici io non voglio li metto privati lo puoi fare certo poi metterlo privato oppure solo punti a chi manda il link per cui lo possono vedere solo chi ha l'indirizzo preciso brava di soli salve buongiorno contenta sentito come ho risposto al signore contenta ragazza rimasto anche stupito detto però dai ciccio calma calma l'occhi calma no lascia fare lascia fare si deve girare lui l'ha fatto anche prima lascialo fare che ci pensa a lui ci penso a lui che preoccupare dai dai forza vieni gigi dai forza no no lascia fare lascia fare l'ha fatto anche prima l'ha fatto anche prima vieni dai forza basta visto passato dall'altra parte hai visto quello gli è passato dall'altro lato lui ha fatto posso alzare le gambe guarda come dirà di non per le palle al babbo guarda queste due da sole per benino va bene guarda come vanno assieme lo vedi come vanno insieme sciva e falisca ma non è vanno bene ci giù un burreno eh fatti Grazie.